La manovra di correzione dei conti pubblici 2011-2012 varata dal Governo prevede una stretta sugli assegni di invalidità. Una situazione che rischia di avere ripercussioni ad Ascoli dove le pensioni di invalidità civile aumentano più della media nazionale. In Italia negli ultimi 5 anni le pensioni di invalidità sono aumentate del 25,5%, in termini assoluti ammontano a quasi 2 milioni e 700 mila. In provincia di Ascoli il numero delle pensioni per invalidità civile alla fine del 2009 erano complessivamente 18.319, ma negli ultimi 5 anni l'incremento ha sfiorato il 30%. Nel 2009 la spesa complessiva è stata in provincia di Ascoli pari a 88,3 milioni di euro. Sempre negli ultimi 5 anni la spesa complessiva è aumentata nel Piceno di ben il 41,8%, a fronte del solo 36,4% della media nazionale e a fronte di un incremento dell'inflazione media nazionale dell'8,3%. Sono questi alcuni dei dati che raccontano la dimensione numerica ed economica delle pensioni di invalidità civile erogate in Italia.